Sono pronte a manifestare le società sportive danneggiate dalla prolungata chiusura dell'impianto Lenaia di Di Pescara. Hanno scritto una lettera alle istituzioni per chiedere di trovare il modo più rapido e più funzionale per far riaprire la struttura. C'è ad esempio il club acquatico Pescara che sa per disputare i play-off di pallanuoto maschile di Serie B senza avere una sede per la preparazione per le partite. Le associazioni sono pronte a manifestare con oltre 600 atleti davanti al comune di Pescara per chiedere un confronto pubblico tra utenza sportiva, regione Abruzzo e comune nel nome dello sport. Unica ancora di salvezza, dicono, e certezza per il futuro delle Naia di. Voi dite Naia di non c'è più tempo perché? Sì, non c'è più tempo perché dopo due anni di difficoltà da Covid, dopo la chiusura a ottobre, così diciamo agli agonisti anche improvvisa, rimangono in effetti pochi giorni. Ci vuole grande chiarezza, forse perché ancora non avesse compreso qual è la problematica. Ci sono pochi giorni per poter decidere l'assetto, anche temporaneo, che la gestione dovrà avere alle Naidi. Questo per aprire a settembre, oramai la stagione estiva è andata, non ci sarà possibilità di aprire, ma dobbiamo fare in fretta per dare almeno una gestione temporanea alla piscina. È stato presentato un project financing o meglio ripresentato? Sì, diciamo che l'accordata che ha presentato è Pescara 1987, che già aveva presentato un project, poi non è andato a buon fine. La persona che l'ha presentata è Medeo Pumilio, che è una persona, diciamo, una garanzia trasversale, penso un po' per tutte le associazioni, anche per la città di Pescara. Noi come associazione che abbiamo emesso questo comunicato siamo a favore, perché siamo entrati nel merito del project e lo riteniamo valido. Non nascondo che in questi giorni stiamo facendo anche dei confronti costruttivi, anche a livello politico e di altri operatori del settore. Il problema è l'urgenza da una parte e la visione futura dell'impianto. Su questo devono scegliere la politica, deve entrare in campo. Noi da tecnici riteniamo che questo del project, che già da più di due anni viene portato avanti alla regione, sia sicuramente uno strumento valido, anche perché pone degli investimenti immediati e la piscina delle Naide ne ha veramente tanto bisogno dopo tanti anni di mancati investimenti. Quello che a noi preme è la stabilità. Non possiamo programmare e progettare nulla senza stabilità, ma non solo noi società sportive, tutti gli utenti, tutti i lavoratori, perché ogni due o tre anni si ritrovano punte da capo. L'importante è che la politica dia un progetto stabile, una visione a lungo termine. Che sia 10 anni o 20 anni è già un periodo valido per tornare a portare Pescara ai livelli che merita. Che sia 10 anni o 20 anni è già un periodo valido per tornare a portare Pescara ai livelli che merita a portare Pescara ai livelli che merita a portare Pescara ai livelli che merita.